A Roseto degli Abruzzi, a distanza di oltre 4 anni, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tarra Abruzzo, che a gennaio 2019 aveva accolto il ricorso presentato dai consiglieri di opposizione di allora, alcuni dei quali oggi in maggioranza, e da diverse associazioni turistiche contro le delibere sull'introduzione della tassa di soggiorno a dicembre 2017 da parte della precedente amministrazione. Dobbiamo tornare sulla sostanza di tale provvedimento, la genesi di questa sentenza, cioè la volontà dell'allora opposizione, di cui facevo parte, di aprire un discorso sull'imposto di soggiorno, su una condivisione sia sulle attività, quindi su un tavolo turistico, e sia anche con le altre città, la sorella della costa, cosa che non era stata avviata, quindi quello fu il motivo del ricorso con la presentazione di oltre 400 emendamenti. Quindi il dato politico è che evidentemente oggi si ritiene dal punto di vista turistico che quella che era la motivazione continua a persistere, e anzi noi l'abbiamo migliorata creando il tavolo turistico e aprendo una discussione con le altre, diciamo, sorelle, le sette sorelle famose della costa teramana. Inoltre, se devo parlare della sentenza, che come sappiamo non si commentano ma si accettano, però prendo atto di una considerazione, cioè che si è ritenuto in qualche modo che l'accorpamento, la discussione per l'accorpamento di emendamenti, fosse un modo corretto per poter garantire il normale e il giusto svolgimento dell'attività consigliare, e quelli erano oltre 400. La mia amministrazione ha subito, e voglio ribadire questo termine, quasi 10.000 emendamenti, quindi credo che a questo punto, se fossi un consigliere di opposizione attuale, aprirei una riflessione rispetto al loro ricorso fatto sul regolamento del Consiglio Comunare. Il rigetto arriva però a seguito del ribaltamento dei ruoli in comune. Va ricordato che a presentare il ricorso al Tarrabruzzo nel 2018 tra i banchi dell'opposizione c'erano Ennio Pavone, Mario Nugnes e Angelo Marcone, questi ultimi diventati poi sindaco e vice sindaco, contro l'amministrazione di allora guidata da Sabatino di Gironamo, attualmente all'opposizione che ha presentato appello al Consiglio di Stato nel 2019. Possiamo dire che è adesso un vantaggio, visto che lei adesso è sindaco di questa città, questa sentenza? Ma io credo che più che vantaggio o svantaggio, credo che ci dà un segnale forte, è questo che noi stiamo cercando di fare, anche con un regolamento che prevede maggiori momenti di confronto, prevede il question time, prevede maggiori spazi di intervento per i consiglieri, prevede tanti tavoli, da quelli giovanili a quelli del turismo, cioè la politica si fa nei tavoli politici e nel confronto, non si fa nelle sedi giudiziali. Io credo che qualche segnale in passato è stato dato perché c'era una chiusura forte dell'amministrazione precedente. Oggi noi stiamo dimostrando in tanti modi che le aperture ci sono.